Non è ancora chiaro dove si svolgeranno i funerali e la sepoltura di Eric Prieb, che è il boia delle fosse ardiatine, morto centenario a Roma. Che non debbano avvenire nella capitale lo ribadiscono il sindaco, il vicariato e la comunità ebraica pronta a scendere in piazza. Celebreremo i funerali in strada se la curia non dovesse concederli, ha detto il legale dell'ex ufficiale nazista.